Sono per lo più maglia degli anni Ottanta con un focus speciale per la squadra di casa, la Castiglionese, e sono tutte di proprietà di un collezionista, Dimitri Pasqui. Nasce tutto circa 15 anni fa, avendo avuto una maglia da Andrea Sussi nella partita Arezzo-Juventus, e da lì mi è scattata, oltre che la passione del pallone l'ho sempre avuta, mi è scattata questa cosa e è andata avanti negli anni. A curare la mostra, l'Associazione Culturale Spazio Aperto, che ha recentemente rinnovato le sue cariche. La prima volta che facciamo qualcosa che è collegato allo sport o al calcio, mentre ci eravamo mossi in tanti settori, è nello spirito fondativo dell'associazione quello di essere aperti a 360 gradi. Tornando ai Cimeli, tante le curiosità. Maglia è indossata da Maradona nella stagione 88-89, senza sponsor, per una tournée in Giappone, appunto contro il Giappone, vinta dal Napoli 2-0. Altre maglie che vuoi menzionare a cui sei particolarmente affezionato, di cui vai particolarmente fiero? Ovviamente io, essendo milanista, è il primo sponsor del Milan, Pugins, oltre ovviamente Scirio-Napoli, il primo anno di Maradona in Italia. Abbiamo anche la maglia di Pino Pellicanò dell'Arezzo, Fibok, quando ha preso, cioè Maradona ha fatto il primo gol in Italia a Pino Pellicanò in Coppa Italia. Napoli-Arezzo 4-1.